raga oggi ci mandiamo di parlare di questa bici che mette sovistano francesco bici sovistano francesco bici sovistano francesco bici sovistano francesco francesco sovistano francesco a Greco e che mi faccio ecco andiamo a prenderlo questa penna ci vediamo là po' ora queste sono due fitte e quindi la parte Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. domani mi sono nato vendita che proviamo a vedere come è pomeriggio 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 ora le video le faccio uscire alle 17 alle 20 esce il video le faccio uscire alle 17 le faccio uscire alle 18 alle 18 Grazie a tutti.